I drop in the ocean Perché andremo ad aprire 50 euro di chest opening Su appunto Prol Stars 50 euro è il valore Delle casse che andiamo ad aprire Io ovviamente me le sono collezionate per aprirle Quindi facciamo un chest opening Che equivale a un chest opening di 50 euro Ma che in game equivale a Un chest opening gratis Tra virgolette ok Detto questo io direi di non perderci un chiacchiere Iniziamo col video E iniziamo subito Iniziamo subito ragazzi che cosa stiamo aspettando La grafica c'è eccola qui La grafica c'è il gioco sta qui eccolo qui Quindi possiamo iniziare E allora via ragazzi abbiamo 31 Casse piccole piccole medie da aprire Più 4 casse enormi Quindi ogni 10 casse piccole Che apriamo ne apriremo una Di quelle enormi Dopodichè a fine video andremo a farci anche una partitella Con Pam E vediamo in quale modalità Detto questo iniziamo vai Ovviamente l'obiettivo di questo video qual è? L'obiettivo di questo video è sicuramente Trovare Ecco non trovare dynamite Perché non mi piace come personaggio Ma trovare sicuramente Occult Oppure qualche Leggendaria Ok Visto che mi servono personaggi nuovi Speriamo di trovarli Jesse più 6 E Mortis più 10 Più un biglietto dell'evento Va bene Andiamo avanti Ricordiamoci che quando arriviamo a 20 Dobbiamo aprire uno di quelli enormi 10 Mortis Vabbè regà Ormai mi sta dando Mortis Gli piace Mortis E mi darà Mortis Mi dai un personaggio nuovo? No mi da Bull Per quale motivo? Mi dai il primo Mi dai il primo Il primo mi stai dando Mi stai dando il primo Brawl Brawl Stars Mi stai dando il primo? Eccolo regà Adesso moda D'è vero Ragazzi Vi dico solo una cosa Se io non trovo Se io non trovo Una Un brawler nuovo Su 40 Casse che apro Cioè Veramente La fine del mondo 21 Penny più 4 Buono perché possiamo quasi portarla su Penny Che anche Penny è Un buon personaggino 19 monete 4 Bull E 5 Bombardino Perfetto Andiamo avanti Altre 3 Poi andremo ad aprirci Quella enorme 5 di Gold 8 di Bombardino Perfetto Andiamo Ancora 2 14 monete 6 di energy per Pam Che è buona Ragazzi Pam è veramente Veramente buona Mi sta piacendo tanto Regà L'ho sbloccata da poco Mi sta piacendo tanto Buono anche Penny Che possiamo portarla su Buonissime Le 12 gemme Per noi E allora continuiamo ad andare avanti Ultima cassa Prima di quella enorme Pocio E 7 di Pam Non mi aveva dato 3 in più 3 in più Ti dico tanto 3 casse in più 3 in più Mi ne dovi da 3 in più Ok Siamo arrivati a 20 Abbiamo aperto le nostre 10 Andiamo ad aprirci la cassa enorme Vai Prima cassa enorme per noi Eh qua Regà Qui c'è sta la leggenda Ma sento Questa è Piper Piper regà 47 monete Ma fermi tutti Mi ha dato poche monete Perché non mi da Piper 10 è il primo 11 stecca Eccola regà E' Piper Cioè regà Non mi ha dato manco un Brawler Abbiamo aperto Fino adesso Abbiamo aperto 12 bauli Non mi ha dato neanche un Brawler Bene Ok vai Ripartiamo Andiamoci a aprire altri 10 Di questi bauloncini piccoli Con 7 nita Che non ci faccio niente Perché nita regà A me non piace nita E 30 Abbiamo 6 di gold Abbiamo 15 di dynamite E va bene così Eri andiamo avanti 2 e 7 monete 6 dynamite E 10 pam Pam è buona regà Pam è buona L'abbiamo già detto all'inizio video Pam è buona Perché comunque è forte come Brawler E ci può servire portarla su 8 di bombardino Che Mamma mia regà Si è proprio sprecato Bene Comunque non ci sta danno neanche un Brawler Quindi 14 monete Ci da 25 colte Buono colte Ci da 25 franc E lo possiamo portare tu Anche frank E' molto buono Perché ultimamente l'ho rivalutato frank Prima pensavo che era molto Lento Macchinoso Però Giocandoci un pochettino Regà Sapete che mi sta piacendo anche Un pochino Frank Ok 4 colte che ci fa bene Perché colte ce l'abbiamo Quasi al 9 Quindi ok Possiamo portarlo su Andiamo avanti Gli ultimi 4 bauli Prima di quello grosso Ci da 6 pam Che sono buoni E ci da 5 gemme Che per carità 5 gemme Nessuno le butta via Però caro Brawl Stars Cioè Brawl Star Capisci che mi devi dare un Brawl E magari che è anche una star Così almeno mi dai anche una bella leggendaria E poi non ti dico leggendaria Ma almeno dammi un qualcosa di potente Dammi un Brawler Cioè manco il primo mi ha fatto portare su per due energie Ok Andiamo ad aprirci l'ultima di quelle piccole E poi andiamo ad aprire quella enorme 5 gold E 10 penni Ok Allora ragazzi aspettate un attimo Fermiamoci un attimino Vi voglio far vedere i personaggi che mi mancano Quelli che stiamo andando a cercare Eccoli qua il Brawler che ho Ok questi qua tutti quelli che ho Questi qua sono tutti quelli che ho E mi manca Boh vabbè però un po' si raggiunge 3000 trofei Sto a 2007 certo quindi Piano piano ci arriveremo Così vi posso portare anche un video con Boh E mi manca Piper Tara Eugenio Spike Corvo E Leon Io adesso Non dico di trovare Spike Corvo E Leon Che sono tre leggendari Però cacchio Cioè dammi almeno Tara Eugenio Piper Cioè questi Ti dico di fammi trovare la leggendaria Però cavolo Cioè 40 bauli 40 bauli Fammi trovare qualcuno E non bombardino che non ci faccio Niente E un bombardino No Shelly Ma no Ventinita Bigliette vento 5 gem Mamma mia Che brutta roba Ce ne abbiamo un'altra enorme Vai 8 Non ci siamo Niente 12 E un bigliette vento Bene Andiamo con gli ultimi 10 bauli Sperando che troviamo Un brawler Almeno qui dentro Riusciremo a trovare un brawler Qui dentro Cioè 50 euro Di chest opening E uno non riesce a trovare Neanche Neanche Un solo Brawler Stiamo rendendo conto La sfiga che ha Alle game 97 Benissimo Neanche qui Eccolo regà Ok regà Allora facciamo una cosa Io cerco di aumentare un pochino Di più la velocità Così almeno cerchiamo di baggare Questo brawl stars Ne fare Tipo i pack opening De fifa Stessa roba Uguale identica Cioè 50 euro Di chest opening Non si riesce a trovare Un brawler Ma magari Solo dalla fine Ci sono due Tutte e due alla fine Niente 10 barrel 3 biglietti e 20 Io ti ringrazio Per i biglietti e 20 Però non ci faccio nulla Buono Questo è buono Ah regà Vedete Vedete Aumentare la velocità Serve Perché così Li baghi un attimo 200 Quello lì Gli addocchi oggettoni Va bene Punti energia Punti energia Punti energia Andiamo avanti Ci mancano ultimi due baule Non abbiamo ancora trovato un brawler E neanche lo troveremo ragazzi Neanche lo troveremo Perché non ce lo da Non ci vuole dare questo brawler Andiamo avanti Vai Ultimo baule Ultimo baule 69 monete 8 di jessi Quindi manco ce la fa portassù 11 barrel Che non ci facciamo niente E 12 shelli Per 3 biglietti e 20 E un altro bonus Dora doppia oggettoni 200 Questo è il nostro Celto paying di 50 euro Dove non abbiamo trovato Neanche Neanche Dico neanche Un brawler Perfetto Detto questo Dobbiamo Che ne so Facciamo Una partitina Dai Visto che siamo a 8 minuti video Dai una partitina Ce la facciamo Ce la facciamo Dove ce la andiamo a fare Una partitina Ricercati Arraffagemme Ragazzi io proverei Ad andare a fare Una raffagemme Io se devo prendere Il gestone stella Farei arraffagemme E io arraffagemme Me la vado a fare con pocio Se lo trovo Lo sta pocio Mi hanno eliminato pocio Da arraffagemme No eccolo qua Ok trovato pocio Allora noi siamo pronti Andiamo a farci Questa partitina Con pocio Ok abbiamo pocio Dynamike E E Barril Ok andiamo subito A rompere un attimino Le ossa Perché devo Dobbilo prendere Le gemme Sì però Cioè io Allora 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 Io di No no rega Quello sta fermo Dai rega Ma come le favo Ma perché Cioè ogni volta Che registro Rega è così eh Ogni volta che registro Ogni volta che registro Qua deve succedere qualcosa Per forza Quello che non gioca Quello che Che merita solo a me Vabbè Ma magari quando non registro Fammi i partitoni Capito Siamo squadrone Quando non registro Lì c'è Dynamike loro Che sta facendo noi Danni di più Sta veramente Divorando la gente Come se non ci fossero domani Prendi quella Cavolo di gemma Eh Niente Si è fatto di ammassare Fatti di ammassare Ragazzi capite Che io non posso Venire ammassare La gente Eh Io vi devo curare Lo capite Niente rega Mi lo cazzo qua E recupero un attimo Nel giro Rega A fare il letter E andare a uccidere Tutti giù Mamma mia Mamma mia Mamma mia Rega Piper Rega Piper Rega Piper Ecco la Dynamike Comunque rega Dynamike loro È quello che sta Fanno la differenza Quello che fa la differenza Rega è Dynamike loro Vai Vai Dobbiamo Andrassù Via se gemmi Via se gemmi Via se gemmi Via 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 Proteggi me Salva per culo Bello 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 Ho fatto un altro hit Ti è cura te Ti è tutto il cura te No Si è morto Morto rega Io l'ho fatta Passa Ok Andiamo via 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 Scappa 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 Ma arriva via Ok Il cielo io no Rega Non devo morire Ragazzi Non devo crepare io Se io non crepo Abbiamo vinto Uno Rega Un bacio a Bubi Un bacio a Volta Non è anche il migliore Ovviamente rega Perché io penso che Cioè Questa partita L'ho ricamata A Unchi Diciamolo Ok Perché ho veramente Distrutto tutti Muccia Raffa Kill to kill Ma va bene così Allora ci prendiamo Questi trofei Ce ne andiamo a 2717 trofei Ci prendiamo anche questo qui Speravo di raggiungere Un altro baule Non ce l'ho fatta Perché siamo ad 84 Detto questo rega Io spero che Questo video vi sia piaciuto È trovato anche un pochettino Più del solito Però mi piaceva portarvelo Anche perché 50 euro di cest opening Raga 50 euro di cest opening E andrà così rega Andrà così Senza trovare brawler Purtroppo E speriamo di trovarli Il prima possibile Amore Quindi almeno Ve li posso anche portare Detto questo Se volete continuare a vedere Questo genere di video Sul mio canale Quindi Brawl Stars Farò dovere Attraverso like E qui sotto Nei commenti Sozzeritemi Qui sotto nei commenti Il nuovo brawler Da usare Nel prossimo appuntamento Nel prossimo episodio E E soprattutto Unitevi al clan Rega ve lo faccio vedere Eccolo qui Questo qui è il mio clan Unitevi al clan Perché Presto faremo partite Tutti insieme Quindi ci possiamo affrontare Ci divertiamo insieme Rega E Vabbè Avete capito Detto ciò Spero che questo video Vi sia piaciuto E fosse così Like Commentare Condividete Noi ci ricerciamo Con un prossimo video E mi raccomando Condividete il video Ovvio Regolare Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Bella per voi Ci vediamo Nel prossimo video Bella rega